Antonio Banderas, grave lutto per lattore, è morta la madre Antonio Banderas ricorda la madre sui social. Il famoso ed amato attore, regista, produttore cinematografico e doppiatore spagnolo, Antonio Banderas, ha dovuto affrontare il dolore causato dalla morte della madre lo scorso 4 novembre. Banderas, nelle ultime ore ha voluto ricordare la madre sui social, postando una foto della donna in bianco. Questo è il messaggio dellattore per la madre Ana, alle 6 in punto di questa mattina, la nostra cara madre Ana Bandera Gallego ci ha lasciati per sempre. Possa Dio riservarle il posto che merita. . Grazie a tutti voi per lappoggio e laffetto dimostratomi. Grazie per gli abbracci, ne invio uno grande da parte di tutta la mia famiglia. . Il nome d'arte di Antonio Banderas deriva dal cognome della madre. . Antonio Banderas era molto legato alla madre Ana, proprio per questo ha deciso in passato di utilizzare il suo cognome come nome d'arte. . Nonostante il dolore per il lutto della madre, Banderas è tornato da poco nei cinema d'America con l'Acting Acts of Vengeance. .